Salve e benvenuto benvenuto a questa ulteriore lezione sulle modalità di pubblicazione dei corsi su Udemy in cui andremo a vedere le ultime operazioni da compiere prima di inviare il corso per la revisione quindi siamo sempre sulla pagina dei nostri corsi di formazione con la lista dei nostri corsi di formazione nel nostro account Udemy il nostro corso management control sempre in stato di bozza e anche in questo caso la questa riga blu ha fatto qualche passo in avanti perché abbiamo completato alcune fasi nelle lezioni precedenti quindi clicchiamo sul titolo del corso e andiamo a settare queste ultime operazioni da compiere prima di pubblicare il corso sul su questa piattaforma quindi le ultime cose da fare sono innanzitutto inserire un messaggio e per esempio quando la persona acquista un corso le comparirà subito questo messaggio di benvenuto e una volta che avrà terminato tutte le lezioni le comparirà questo messaggio finale quindi qui potremo scrivere benvenuto e alla fine congratulazioni ovviamente andando a scrivere forme o formule un pochino più complesse articolate sia nel messaggio di benvenuto sia nel messaggio di congruta congratulazioni per la fine del corso quindi questo è un ambiente e anche in questo caso andremo a cliccare su salva e Udemy ci avvertirà che le modifiche sono state apportate poi dobbiamo andare a stabilire il prezzo del nostro corso quindi qui sceglieremo la valuta qui selezioneremo il nostro prezzo e si può andare da 19 euro e 99 fino a 199 e 99 e qui come puoi vedere il corso può essere pubblicato anche gratuitamente quando si pubblica un corso gratuitamente lo si può fare però non deve durare più di due ore e soprattutto devi fare attenzione a non passare più di una volta da gratis a pagamento e viceversa perché poi ci sono tutta una serie di limitazioni nella pubblicizzazione del corso da parte di Udemy quindi se vuoi far conoscere il tuo corso ad un po' di persone per magari ottenere anche da loro qualche recensione sul tuo corso ti conviene metterlo all'inizio gratis per poi una volta una volta avuti un po' di recensioni che magari il corso è stato apprezzato dalle persone andarlo puoi ammettere a pagamento senza però poi tornare indietro perché poi come dicevo prima ci sono tutta una serie di limitazioni quindi diciamo il nostro corso all'inizio lo mettiamo gratis clicchiamo su salva anche in questo caso le modifiche sono state apportate come puoi vedere da questa barra in verde le modifiche sono state apportate e un'ultima cosa che ti voglio far vedere è l'ambiente delle promozioni l'ambiente delle promozioni consente di creare ora ancora non è possibile creare coupon perché il corso non è stato completato consente di creare anche delle promozioni da pubblicare sui social da mandare alle persone che abbiamo iscritte ad altri corsi e innanzitutto ti segnalo questo link questo link è il link con cui facendo copia incolla si potrà pubblicizzare il nostro corso sui social oppure mandandolo per email alle persone che conosciamo e chiunque cliccando su questo link sui social comparirà anche la copertina del corso inserendo questo link in un post cliccando su questo link raggiungeranno immediatamente il nostro corso che abbiamo pubblicato poi si possono creare dei coupon dove possiamo fare prezzi diversi rispetto a quello che abbiamo impostato per esempio un prezzo promozionale oppure possiamo anche fare un coupon che ha un numero limitato di riscatti per dare il corso gratuitamente a ulteriori persone quindi qui siamo arrivati alla fine una volta completate queste operazioni ovviamente tutte quelle che abbiamo visto nelle lezioni precedenti non faremo altro che cliccare invia per revisione una volta inviato alla revisione udemy in circa due giorni risponde e nel caso in cui non ci siano problemi il corso viene automaticamente pubblicato ovviamente ci avvisa per email nel caso in cui ci fosse qualcosa che non va come per esempio se tu avessi inserito un'immagine una scritta nell'immagine di copertina ti avverte che devi modificare quella cosa lo invierai di nuovo alla revisione e successivamente udemy sempre nell'arco di un paio di giorni pubblicherà il tuo il tuo corso ti aspetto alla prossima lezione ciao